Arrivo a cosenza del deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli per l'assemblea regionale del partito che si è svolta all'hotel Sant'Agostino di Rende. L'obiettivo era quello di tracciare assieme a simpatizzanti ed iscritti le linee guida in vista delle imminenti elezioni amministrative ed europee. L'arrivo a cosenza di Cirielli è stata anche occasione per affrontare la questione chiusura del Tribunale di Rossano. Cirielli ha incontrato una rappresentanza di avvocati per discutere del vuoto di legalità lasciato nell'alto Ionio cosentino dalla chiusura del presidio di giustizia rossanese. Presente all'incontro anche il coordinatore territoriale della fascia ionica del partito, il consigliere provinciale Ernesto Rapani. Abbiamo approfittato della presenza dell'onorevole Cirielli qui a cosenza per sentire un attimino a che punto è la situazione tribunale della quale lui personalmente se ne sta occupando pur non facendo parte direttamente della commissione giustizia. E però sta seguendo la vicenda perché è stato sollecitato direttamente da noi. Una cosa è certa, Fratelli d'Italia è favorevole naturalmente alla riapertura del Tribunale di Rossano, non perché si tratti di Rossano o perché l'abbiamo sollecitata noi esponenti del partito, ma perché si sono resi conto che effettivamente è una necessità per il nostro territorio e rispetto ad altri territori abbiamo tutte le carte in regola per poter rivedere la riapertura del Tribunale di Rossano. Per cui abbiamo fatto partecipare una nutrita rappresentanza di avvocati, principalmente coloro che da subito si sono mobilitati, generando un comitato per il no alla chiusura del Tribunale, che stanno continuando a combattere fiduciosi con la speranza che effettivamente il Tribunale di Rossano possa riaprire da qui a breve termine. Nessuna intenzione dunque di mollare la presa a fronte di una grave lacuna, ma soprattutto del continuo venirmeno di democrazia in quell'area. Così hanno infatti percepito i cittadini della fascia ionica l'ennesima beffa e loro danni, loro così come gli altri attori coinvolti nella questione. La bocciatura da parte della Corte Costituzionale della richiesta di referendum per il cambiamento della geografia giudiziaria.